Con la riapertura del complesso conventuale di San Francesco, prevista il 6 luglio con una solenne inaugurazione e seguita da una serie di eventi che si concluderanno il 4 ottobre, si completa il percorso di riqualificazione della zona est della città, avviato dalla Fondazione Cassa di Risparmio con il recupero dell'area dell'ex caserma Mazzini e poi del complesso della Stecca. Un intervento di grande respiro, iniziato nel 2010 sotto il coordinamento generale di Franco Mungai e la direzione dei lavori dell'architetto Stefano Dini, che rileggendo l'area conventuale del San Francesco ha cercato di proporre una soluzione progettuale che corrispondesse alle esigenze di IMT, che di fatto ne occuperà gli spazi interni con nuove aule, biblioteche e alloggi per ricercatori e studenti, ma che allo stesso tempo fosse compatibile e rispettasse la sua natura storica e fosse anche disponibile alla città. Forse l'intervento di recupero architettonico più importante della storia moderna, come l'ha definito il sindaco Tambellini. La fondazione, allora capitanata da Giovanni Cattani, aveva acquistato il complesso dal comune e da privati per oltre 7 milioni di euro, impiegandone poi una ventina per i successivi lavori di recupero, che comprendono anche la chiesa duecentesca e il suo campanile. Un luogo questo che arricchirà la dotazione di spazi a disposizione del comune per i grandi eventi musicali o convennistici. Presidente, ci siamo? Meno tre mesi. Col 6 di luglio contiamo di inaugurare l'intero complesso. È un'opera di riqualificazione non solo, devo dire, di una struttura, ma di una parte della città? Ma direi che l'ampiezza del convento e del complesso è tale per cui è veramente una parte della città. Pensiamo che lasciando aperto i porti principali potremmo andare da Piazza San Francesco, praticamente a Porta San Jacopo. E poi quello che è interessante è che essendo aperto al pubblico, il pubblico avrà modo di usufruirne e nello stesso tempo anche gli studenti di IMT avranno un modo di trovare spazi per lo studio veramente confortevoli. Diciamo che questo poi è un ulteriore salto di qualità per IMT che diventa davvero un polo eccezionale. IMT è una scuola che è nata ieri, lo sappiamo tutti. A volte sentiamo tutti in città, diciamo, ma IMT non da sul territorio, non ritorna. Io penso al fatto che IMT ormai sia conosciuta a livello nazionale e internazionale. Il fatto che per aver messo a disposizione 46-48 borse di studio ci saranno state 2.356 domande da tutto il mondo, nella prova, se io vado spesso a Roma devo dire che IMT gode della fiducia e della stima ormai generalizzata. È chiaro che faremo di tutto perché si traducano i benefici anche concretamente sul territorio, però IMT ormai già una realtà che sta dando a Luca un ritorno. E poi io le faccio sempre la stessa domanda, ma bisogna farla. Come dire, la fondazione è motore dell'economia perché questo intervento ha coinvolto tantissime persone, ha dato lavoro, insomma è stato un... Consideriamo che il complesso di San Francesco, due anni e mezzo di lavoro, perché abbiamo iniziato i lavori, però a fine dicembre viva ancora il povero Cattane, nel quale dobbiamo l'acquisto del complesso. A gennaio 2011 siamo partiti con i lavori, il 6 di luglio inauguriamo, quindi in due anni e mezzo consideriamo che mediamente hanno lavorato e stanno lavorando nel complesso 80-85 persone.